E' uno dei maggiori scrittori contemporanei, ha scritto un libro bellissimo, Patria, sul quale personalmente io ho versato fiumi di lacrime. Si chiama Fernando Aramburu, adesso è libreria con un nuovo volume ed abbiamo il piacere e l'onore di averlo fra noi. Fernando Aramburu. Benvenuto. Questo nuovo libro che si intitola I rondoni parte con un incipit forte, fortissimo. Qual è l'incipit? È la storia di questo signore che si chiama Tino e ha 50 anni più o meno, che a un certo punto della propria vita, deluso da tante cose, dalla vita, dall'amore, dal lavoro, da tutto, decide che si toglierà la vita fra un anno. Tutti noi, almeno una volta nella vita, ci siamo trovati nei panni di Tino, cioè delusi dall'esistenza. E però, diciamo, in questo libro che appunto è, come potete vedere, voluminoso, articolato e bellissimo come Patria, diciamo in qualche modo decidere, prendere consapevolezza della morte, aiuta a imparare ad amare la vita. È così? Sì, è così, Tony è un uomo maturo, un professore di filosofia, che decide all'inizio del romanzo di commettere suicidio, ma non sa esattamente perché. Ed è questo il nodo della questione, perché si concede un anno per cercare di capire perché non vuole continuare a vivere. Ciò di cui si rende conto sono i sintomi, ma l'origine, la causa vera del proprio malessere, desidera trovarla, ed è quanto dà luogo a questo lungo romanzo. Il libro si apre con la descrizione della famiglia di Tony. La famiglia di Tony è una famiglia che potremmo definire disfunzionale, ha un padre frustrato, violento. Ecco, secondo lei, chi nasce in una famiglia che ha dei problemi, ha un destino segnato? Cioè, comunque si porterà dietro questa infelicità o una parte di questa infelicità? Sono convinto che tutti noi siamo il risultato dell'inizio della nostra vita, della famiglia che ci ha allevato, dell'educazione scolastica ricevuta. Io ho avuto la fortuna di vivere in una famiglia armoniosa, nella quale vi era affetto, molte risate, una famiglia modesta, e sono molto grato di questo. Penso che sono un uomo sereno in gran parte grazie alla stabilità familiare di cui ho potuto godere. Nel mio romanzo ho giocato a mostrare ciò che io non ho vissuto, fortunatamente. Ecco, ma come si sfugge a questo destino? Non è che pretendo le risposte più importanti, non è che pretendo da lei una risposta a quello che è un dramma dell'esistenza di ognuno, ma secondo lei che cosa può aiutare a superare un trauma familiare? Superare un trauma non è facile, ma possiamo imparare a convivere col trauma, fortunatamente non siamo una conseguenza automatica di quanto viviamo nell'infanzia, abbiamo dei rapporti con altre persone, il nostro mondo cambia, ci sviluppiamo, evolviamo e possiamo avere un po' di fortuna nella vita e trovare una stabilità emotiva. Peraltro Tony scrive ogni giorno un diario nel quale scrive le cose che accadono mentre le sta vivendo e le cose del passato. Tendenzialmente è meglio ricordare o rimuovere per vivere meglio? Penso che occorre ricordare ma anche dimenticare, ricordare tutto è un peso molto grande e penso che dobbiamo saperci difendere dall'eccesso dei ricordi. Difenderci dall'eccesso dei ricordi. Tema solitudine. Lei scrive, la solitudine si sa è accondiscendente sebbene alla lunga tolga più di quanto dà. In che senso? Vi è una solitudine buona, che è quella che noi scegliamo per noi stessi, alla quale possiamo porre fine quando desideriamo, una solitudine volontaria, che per me è fondamentale per la creatività. Ma vi è una solitudine tossica, che è negativa, che è quella che ci viene imposta e soprattutto è la solitudine che è il mezzo degli altri. Io quel genere di solitudine non desidero averla. La solitudine della folla, che credo sia uno dei momenti nella vita nei quali possiamo sentirci più disperati in mezzo a tanta gente. La musica aiuta? A lei personalmente piace? Mi piace molto la musica. Le faccio ascoltare la nostra Jessica Morlacchi e il nostro Marco Armani in una pagina tra le più belle. Ah no, un attimo, sta arrivando il corteo di Biden al Quirinale. È questo? Credo proprio di sì. Perché ci dicono che si è concluso l'incontro con il Papa, che è durato più del previsto. Al momento, comunque, ricordiamo, sono circa 40 minuti di ritardo sulla tabella di marcia e quindi è questa la notizia al momento. Sai che sono molto rigidi. Era previsto per le 14 l'incontro con Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, e ancora Biden. Qui non si vede. Ovviamente ci sono poi tutti quanti gli appuntamenti dopo, fra cui anche la visita a Mario Draghi e le 15.20. A questo punto ritarderanno tutti, ce lo chiediamo. Chiaro, molto interessante capire che cosa si sono detti, diciamo, due forse tra le figure più importanti del mondo, il Papa e il Presidente degli Stati Uniti. Vai Jessica. Tu dimmi quando, quando, bisogno di te, almeno un'ora, forse è in Africa che importa. Tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani e il tuo naso, verso un giorno disperato, ed io ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora. Tu dimmi quando, quando, non guardarmi adesso, amore, sono stanca, perché penso al futuro. Tu dimmi quando, 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 siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete, ho sete ancora. Tu dimmi quando, 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 quando. Grazie, meravigliosi, bravissimi. E peraltro, chiudendo Domenico, quello che ci stai raccontando, insomma, di questo ritardo accumulato sulle visite del Premier statunitense, ricordiamo che Biden è Presidente Cattolico, e ricordiamo anche che ha un vissuto molto drammatico, perché perse la moglie e i figli in un incidente, ha perso il primo genito più di recente, e quindi immaginiamo che lui è dal Papa non solo per questioni ovviamente di Stato, ma immaginiamo che in quel colloquio ci sarà stata una parte emotiva personale molto forte e per lui molto importante. Aramburu, l'ultima domanda che le voglio fare riguarda Patria, che è uno dei miei libri preferiti, e le dico anche che sul finale ho proprio pianto, lo sappia, proprio lacrimoni, perché mi ha molto emozionato. Ecco, i legami familiari che sono travolti in un modo così tragico nel suo primo libro, legato agli anni del terrorismo basco, appunto nei paesi baschi che sono i suoi luoghi nativi, ecco, influiscono tutto ciò che è all'esterno delle famiglie, quanto si ripercuote su quello che c'è all'interno, e quanto le famiglie possono essere baluardo o invece detonatore dei dissidi. Usciamo da una pandemia e quindi questa domanda per me è molto attuale. Penso che tutti noi siamo determinati direttamente dai legami che abbiamo con la storia collettiva. La circostanza di vivere in un paese, in determinate condizioni sociali, ci formano in qualche modo, non siamo fatti solo di intimità, ma siamo anche formati da coloro che ci circondano e dal luogo in cui si svolge la nostra vita. Aramburu, grazie per essere stato con noi, non vedo l'ora di finire perché lo sto già leggendo, I rondoni, il suo ultimo romanzo, e buon fine settimana.